Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! I giochi dove dovete potenziare una vostra attività, questo è il gioco che fa per voi. L'ho appena cominciato, ho già visto dei gameplay, ho già visto quello che si può fare ed è assolutamente interessante. L'inizio è guidato perché dobbiamo togliere le assi e accedere al computer. È un gioco che gli sviluppatori stanno portando avanti veramente tanto perché nell'ultimo aggiornamento, e l'hanno fatto neanche un mese dopo l'uscita del gioco, hanno rilasciato l'espansione Basement, quindi potete fare il parcheggio interrato. In pratica quello che farete è all'inizio andare, affittare il posto auto qui dove parcheggiare alla gente, riscuotendo diciamo il pagamento normalmente fino ad arrivare a sbarre, sistemi automatici di biglietti, parcheggio più piani, macchinette per le bibite e cose del genere. Quindi il gioco è assolutamente vario. Ovviamente avendolo appena iniziato dobbiamo ripulire tutta la zona. Quindi adesso il tutorial mi sta dicendo semplicemente vai e accedi al computer, la missione è chiamata Inception. Io ovviamente per la mia sanità mentale pulisco queste assi qui, anzi queste mi fanno comodo per salire. Siamo all'interno, questa sarà, diventerà il magazzino, diventerà un bel niente perché qui non c'è niente. E mi sa che ci potremo interagire dopo, lasciamolo chiudo intanto. Allora accediamo al computer, ovviamente grafica, disagio, come piace a noi. E qua abbiamo, il gioco non è in italiano, purchase a concrete ground for first parking area. Quindi praticamente noi dobbiamo acquistare in cemento il pavimento cementato. Rimuove trash quando il cassonetto fuori è pieno, usiamo questo. Abbiamo lo shop, le mail e gli impiegati. Gas station praticamente. L'ho comprato. Ground concrete 1000. Sì abbiamo 4005, lo prendo. Ok, praticamente vedete che qua ci sono questo sistema di mi piace. Praticamente a due mi piace, la reputazione, possiamo comprare la strada cementata. E praticamente vedete che abbiamo la reputation. Che aumenta, man mano noi puliamo, man mano noi guadagniamo reputazione. È una sorta di punti esperienza. Nello shop possiamo acquistare le facilities, quindi le varie cose qui. Uno o more pittura bianca. Abbiamo il limitatore, le barriere in pratica per il parcheggio. Un livello di soffitto, due livelli di soffitto, livello 2, livello 3. Ok. E abbiamo la sicurezza, le decorazioni, le luci e il cibo. Acquistiamo una o più. Ne acquistiamo tre. Devi aspettare il corriere e scaricare le merci. Vedete qua abbiamo la security, abbiamo la sbarra, ci costa 300. Abbiamo le camere di sicurezza perché viene un tizio a pitturarci i muri da quello che ho visto. L'ho visto da Mirko, non è che ho niente da nascondere. Allora, deve essere arrivato il corriere che ci scarica probabilmente qua dietro, in magazzino, no? E infatti adesso funziona. Vabbè. È disagio proprio, disagio. E' tutto il cavallo altissimo che arriva. Eccolo qua il corriere che arriva. Credo. Oh, è là il mago della rete. Bravissimo. Ok. Negli scaffali troviamo la merce. Quindi, open storage. E abbiamo la merce. Quindi, prendo, move. 10... Ok, dai. 5 kg. Ah, ok. Questo è il menu. Ok, devo pitturare e creare uno slot di parcheggio. Ok, quindi praticamente qua vedete che ci hanno messo il cemento. Devo pitturare, quindi... Ah, questo è per la pistola aliena per i... Ok. White paint to apply... Ok, e keep. Perfetto. Ok. Dicevo la pistola aliena per spostare le auto problematiche. Ok. Beh, ci sta che sia così, dai. Dobbiamo caricare più spazi, ancora. Cavoli, l'abbè già usato tutta la... Sì. Ma dai, per fare due righe! Ma cazzarola! Devo ordinare il travernice. Move. E poi... Andiamo col menu Q. A mettere... È bello perché... La cosa che mi piace di questi giochi è la progressione. Che potete avere... Che potete avere... Nel corso del tempo. Ah, tutto... Così, cioè... Ok, arrivano i primi clienti. Get a payment for the client. Ok. Eccolo che arriva. È entrato da lì. Cazza, non lo devo pulire qua. Ok, eccolo qua. Anche arriva. Parcheggia. Eh, mi costa un case... Ma ci sta, alla fine, perché... Una toletta costa 600, mi pare, da quello che ho visto. Di divernice e... Ovviamente avendo più posti ho un guadagno maggiore. Intanto noi iniziamo... Ho visto che più o meno pagano 3,40 e 60, quindi... Eh, questo glielo tiro in testa, eh. No, mi deve pagare, quindi niente, dai. Stiamo zitti. Allora, intanto fatemi buttare un po' di roba. Pick up. Butta lì. Fammi prendere questa. Butta lì. Ok. Butta lì. Butta lì. Butta. Oh, cazzo. Questo sta facendo qualcosa. Aspetta, fermi, 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 fermi. Manganello. Ok, il manganello si può usare solo su qualcuno che sta facendo qualcosa di illegale. E generalmente quelli che corrono sono quelli che hanno qualcosa da nascondere. Quindi noi continuiamo la nostra pulizia. È un gioco che purtroppo in video potrebbe non rendere, nel senso che va approfondito diverse ore. Ed è un gioco che si presta bene comunque a un uso relax, perché comunque abbiamo tutta questa, diciamo, possibilità di fallire. Non è una gestione economica, è un intrattenimento, un simulatore di un'attività. E il bello è proprio il senso di progressione che si ha. Il fatto che all'inizio si fa molto lavoro manuale e man mano questo lavoro manuale viene meno, perché è tutto più automatizzato. E a quel punto il bello è proprio andare a concentrarsi su come ottimizzare i guadagni col minore sforzo possibile. Quindi ovviamente poi una volta arrivati al massimo dove abbiamo tutto, ma generalmente questo richiede diverse ore. Almeno in questi giochi richiede diverse ore. E spesso magari non c'è il fallimento dell'attività, il conto di me rosso, ma spesso c'è magari una perdita di soldi. Nel senso che ho investito male, sono in difficoltà, perdo clienti, perdo reputazione, perdo le scelte sbagliate. A quel punto capisco lo sbaglio e vado a sistemare. Intanto chiacchierando stiamo sistemando la zona. Piano piano, buono buono. Intanto questi qui hanno parcheggiato e iniziamo a guadagnare qualche soldo. Appena uno di loro torna, infatti quello lì sta tornando, credo. Sì, adesso riprende la macchina, uscirà e pagherà. Ovviamente mettendo anche la sbarra eviteremo che gente possa andare via senza pagare perché... Ok, salve. Paga? 39. Ok, quindi metti tre pezzi di decorazione nell'area verde, ok, che è questa. Allora andiamo, intanto sta arrivando la notte, andiamo al computer, poi devo sistemare anche qua dentro, magari diventerà un barretto o qualcosa. Prendiamo tre pezzi di decorazione, abbiamo l'email e abbiamo gli impiegati che possiamo assumere. Guardia, quello che pulisce è il porter, non so cosa sia. Decoration, mettiamo, allora, mettiamo questi che mi piacciono molto. Uno, due, tre, ordina. Perfetto, arriveranno a breve. Intanto sta arrivando un altro. Ma... Ha pittorato. E qui ci mette una vita! Beh, ero dentro che ordinavo i cespugli e sto qui a pittorato. Infatti forse si sentiva anche, in effetti, il rumore di bomboletta. Comunque lo rimuoviamo e è tornata una parete brutta come prima. Quello parcheggia, quello va via. Quindi paghiamo, paga anche lui. Voglio togliermi il manganello. Salve! 47, sì perché l'è rimasto di più. Ci sta. Adesso, appena arriva il corriere, andiamo via. Andiamo a mettere questi pezzi di... Eccolo qua che è arrivato. Grazie. Perfetto. Alla magazzino prendiamo tutti e tre i... Perfetto. E andiamo a posizionarli. Ormai, più o meno, dovrei aver capito. In pratica, andando nell'inventario, andiamo qui, prendiamo i fiori, li piazziamo e li mettiamo nell'aria verde. Quindi, secondo me, se starebbe molto bene qui... Uno, due e tre. Più alta la reputazione, maggiori vantaggi e cose potrai acquistare. Raggiungi il secondo livello di reputazione. Perfetto. Quindi siamo a livello uno, dobbiamo raggiungere il secondo. Quindi dobbiamo andare a aumentare la reputazione. Quindi, secondo me, possiamo andare a comprare la sbara. Shop. Facilities. No, security. Questa. Acquista. Posso fare un ordine solo alla volta? Sì. Office lamp. Sì, dai, mi piacciono molto anche questi. Adesso aspettiamo. Vediamo se me l'ha tenuto. Penso di sì, sì, infatti. Allora, aspettiamo. Qua si può dormire. No, è una finta. Su una sede di legno, chi ci dorme. Salve. Bello, bellino. Sarà da vedere di giorno. Intanto io continuo a pulire qua. Magari diventa un po' più presentabile la zona. Magari mi migliora anche la reputation. Devo sempre tenere d'occhio che non ci sia... Finché non avrò almeno una guardia. Devo tenere d'occhio la gente. Che corre, perlomeno. Sono delle gomme. Vediamo se rotola. Eh, un po' sì, dai. Eccolo là. Ok. Ma questa qua non me la prende più, perché? Vabbè. Anche perché mi costa un botto svuotare il... Questo. Mannaggia. Un tappo in alto. Sì, no. È bello pieno, eh. Devo buttare la roba di là. Ah, scusate. Deve pagare. Quanto? 37. Ok. Questa non me la fa più prendere. Non so perché. Comunque. Vediamo intanto di là. Buttali. Ah, ho buttato di là. Eh, mannaggia. Dovrei tenere d'occhio gli affari. Eh, lo so. Anche qua c'è un materiale della costruzione quindi probabilmente qua si può estendere. Diventerà un edificio, poi più piani dove la gente parcheggia e pagherà l'uscita. Questa se ne sta andando via. Eh, è arrivato, mannaggia. Sì, è arrivato, credo, questo. Sì. Unload supplies. Open storage. Equipaggiamo la sbarra che pesa un 5 kg. Non neanche tantissimo. E vado già che ci sono ordinari lampioni perché vorrei dare un po' di illuminazione a quei poveretti che parcheggiano lì. Quindi, ok. Acquistati, quindi arriverà. Salve, va via anche lei? Questa non me la fa... Ah, no, no. Ok, ok. Adesso sì. È un po' pieno qua, eh. Ok, lei paga. Sono ben felice per pagare. 38. Eh, non si diventa ricchi neanche così, eh. Bisogna potenziare il business. Bisogna comprare nuove... Nuove toalette di vernice. Ampliare i parcheggi. Anche se in realtà credo che pieno pieno non l'abbia mai avuto questo parcheggio. Quindi... andiamo a vedere. Ok. Ecco, questo comunque se il vostro dubbio è un gioco che portano avanti da quello che si è visto nei primi uno o due mesi direi proprio di sì perché stanno facendo tanti aggiornamenti. Quindi potrebbe diventare una sorta di gas station che anche quello è stato portato avanti tanto. oltre un po' lentamente però è stato fatto. Allora, andiamo a mettere vediamo come funziona il posizionamento della sbara. Lo posso mettere solo in un punto lo posso mettere qua. Quindi qui non se ne vanno ovviamente fanno il giro passando di qua ma clear. Ah, ok. Qua è il il cestino per la gente. Dovrei metterne di più. Comunque, appena arrivano i lampioni cambiamo un pochino faccia questo posto. Dovrei anche pagare ma non mi va tanto di pagare 150 costa per svuotare questo container. Non mi va più di tanto. Cosa fa? Ah, sta parcheggiando. Ok, bravo. Allora, è arrivato. Perfetto. Fammi mettere i lampioni. Tutto. Vabbè, un chilo l'uno non è tanto. Salve. È un vampiro lei? Va bene. Dai. Allora, questo qua. Place. Ah, no. Ma mi serve il lamp... Ma no! Vedete che... Ah, me lo posso mettere solo in questi punti qua. Ok. Vabbè. Make it in. Uno, due. Però mi sale la reputazione. Quindi... Qui. Vabbè, allora. Vabbè, fatemi ordinare altre cose. Altre cose. Road concrete. Non posso. Ground asphalt. Non posso. Facciamo che compriamo della vernice. 200! Non 600. Ok, 200. No, non è tanto. Allora. Lightning. No. Eh, questi qui mi servivano ma non posso. Food and drink. Nianche. Non posso comprare niente. Posso comprare delle decorazioni. Decorazioni. Prendiamo anche dei pinetti. Modiniamo tutto, dai. Così almeno appena arriva alziamo un po' la reputazione. Quello lì sta scappando. Manca una gomma ancora. Vedete intanto qua. Il parcheggio però effettivamente è pieno. Quindi ho fatto bene ordinare la vernice. Quello sta andando a pittorare la roba. e io ovviamente penserò a lui a brevissimo col manganello. Questo deve andare via quindi vengo qui paga 48 e gli apro la sbarra. Prego. E la richiudo. Va bene. Allora aspettiamo che arrivi il trasportatore. Ma anche qua il tavolo no non si putta via questo è la nostra la nostra postazione abusiva. Vediamo se il corriere è già arrivato. Sì. Yes. Ok. Andiamo qua. Prendo i miei pinetti e la mia vernice. Una sola di vernice. Potevo ordinare un po' di più ma va bene. Allora allora iniziamo mettendo mettendo i pinetti qua place li mettiamo qua uno due tre e quattro sì ho un po' sbilanciato questo e lo metto qui e questo paga cinquanta cinquanta prego e grazie della visita. Poi mettiamo un altro parcheggio quindi tac vernice tac e facciamo un parcheggio anche dall'altra parte. Ok. Poi eh mannaggia mannaggia bisogna buttare via questa roba cinquanta cinquanta adesso lo possiamo buttare qua credo no va bene lo buttiamo di là 83 dai stiamo sempre in piano andando a mamma mia quanti eh manca un cestino lì ma c'è poco da fare credo vabbè allora cosa facciamo cosa facciamo eh bisogna bisogna fare qualcosa bisogna assolutamente portare a livello 2 il ne compro ne compro 8 devo devo assolutamente aumentare il livello di questo posto non ho più soldi non ho più un soldo non posso più fare niente eh fatemi anche svuotare quello che almeno magari mi sale la reputazione almeno scopriamo subito se ok ho pagato no non è salita però vengono a svuotarlo almeno dai allora ah ok sta parcheggiando l'anno il parcheggio nuovo sì effettivamente il parcheggio è pieno quindi mettendo 8 posti auto in più dovremmo fare comunque più soldi eccolo il corriere ho visto che sta arrivando eccolo lì abbiamo perso la reputazione vedete e non so perché comunque sta arrivando il garbage ho sentito un plop ed è andata giù la reputazione non so il motivo però intanto scarichiamo fatemela caricare tutta in inventario vediamo intanto fuori cosa sta facendo questo è venuto a scaricare si ha svuotato infatti 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 allora andiamo ad aumentare i posti auto dai tac equip allora 8 eh 1 2 poi 3 3 3 ok 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 basta a mannaggia stiamo perdendo la reputazione perché abbiamo coda mi scusi tanto davvero stiamo perdendo per quello i soldi non ne abbiamo tantissimi però adesso abbiamo tanto spazio e sta anche migliorando adesso tempo di siamo a meno 22 per la spazzatura e infatti io vorrei sistemare sta roba il prima possibile meno 20 infatti 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 quindi continuiamo l'opera meno 18 sì 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 no allora è anche questo il motivo perché ho spazzatura in mezzo al al parcheggio e devo assolutamente buttarla e sarà un lavoraccio perché va preso uno una bottiglietta e va buttata via purtroppo questo è buono perché adesso tutta la roba più o meno grossa l'abbiamo buttata abbiamo meno 16 adesso questo paga 50 finiamo la sbarra quell'altro lì non si è capito se arriva o meno comunque meno 16 eh sì meno 14 sì 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 mannaggia finché non avremo uno che pulisce sarà un lavoraccio da gestire tutto questo vediamo se questo paga gli ho lasciato la sbarra aperta ma ok grazie rivederci eh sì meno 12 sì sì stiamo stiamo andando verso il livellamento credo mi piacerebbe capire se posso metterli in inventario questo vediamo lo butto qua meno 12 dai 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 quanto 50 47 dai buono rivederci sta riempiendo tutto meno 10 e dobbiamo aggiungere anche qualche altra decorazioncina appena facciamo due soldi vedete è solo questione in questo momento di attendere perché poi a reputazione 2 possiamo comprare altri oggetti quello lì mi sa che smonta le auto infatti no perché quello lì si vedeva nel trailer negli screen su steam quindi ma allora secondo me tirando due conclusioni il gioco non è male segue quello che si è già visto con un gas station con forse un pochino più di personalizzazione perché si vede crescere un posto da zero a parcheggio bello da vedere fa parte di quella categoria di giochi lì tra i mille che sono usciti tanti sono veramente scadenti banali e non aggiornati questo permette decisamente tanto perché hanno già fatto un botto di aggiornamenti hanno già non dico stravolto però il fatto di aggiungere un'espansione pubblicizzarla e poi rilasciarla effettivamente come promesso con il semi interrato è una bella mossa quindi assolutamente da tenere d'occhio ok reputation ce n'è il parcheggio è quasi pronto io credo che si potrebbe prendere ancora qualcosina come non lo so parcheggi diventa un po' troppo grande però per me vedete a livello reputazione 2 si prende road concrete la strada asfaltata allora questa è la vernice presa prendiamo decoration aumenta di 3 il parcheggio aumenta di 10 quindi la mannaggia no voglio prendere 2 va si si arrivo arrivo e abbiamo consumato praticamente tutti i soldi abbiamo fatto fuori tutti i soldi per ordinare la vernice per fare il parcheggio tra l'altro bisogna fare attenzione qua continuano a buttare roba e la reputazione comunque continua a scendere di quei pochi punti in realtà perché sono due punti a bottiglia però da fastidio allora 51 51 ogni 4 macchine ci paghiamo una vernice adesso sta arrivando l'altra vernice c'è ancora qualcosina in giro perché siamo a meno 4 quindi ci sono due bottiglie in giro adesso dovremmo scendere a meno 2 infatti se io la mollo torna eh sì cavolo eh è perché scendono dall'auto e buttano via qualcosa ogni volta allora lei con questo mega tutti turning abbat che bel parcheggio pieno c'è il bamboli che sta rapinando una macchina e adesso non non riesco più a fare niente perché ok allora come conclusione andiamo a vedere il livello di reputazione 2 quindi prendiamo questo peccato che devo andare tutte le volte a riprenderlo dal magazzino quindi trasferisco tutto e andiamo a pitturare i due ultimi parcheggi che credo ci consentiranno di alzarci di di livello credo a sto punto poi vorrei fare la la strada asfaltata vernice equipaggio mettiamo qui una e poi qui non ancora non ancora non ancora come mai non ancora ok qua si vede quello che sta pagando praticamente la zona meno decorata ha una tariffa più bassa qua si paga 2,7 dollari all'ora qua 2 perché qua c'è meno decorazione interessante ok ecco paga 50 e non ce la facciamo prego prego vada 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 pure ok posso farlo pagare con una bottiglia in mano o no paghi paghi pick up cosa e ho perso la bottiglia non lo trovo più e niente dai abbiamo dobbiamo ordinare ancora qualcosa ordiniamo un uno qui e due di quei tre di questi dai così almeno pagano di più che quelli dell'altra parte questo paga 50 siamo proprio proprio in centro in centro in centro mi scusi anche va bene venga venga ok lei è scesa e ha buttato la bottiglia sì la forza ho visto salire ok questo sta pensando a noi noi pensiamo a lui delivery arrived quindi prendi questo equipaggio trasferisci tutto e questo trasferisci tutto sì va bene sì non ah dovete pagare tutti tutti adesso sì ho capito 40 le metteremo poi la biglietteria automatica in modo che vado a farmi un giro e allora poi è arrivata la consegna quindi andiamo a mettere il le decorations qui così questi pagano uno di più uno due te lo metto anche qui ole ora dobbiamo guadagnare 10.000 perfetto allora andiamo a mettere anche la vernice non è che ci abbiano dato soldi comunque siamo arrivati quasi alla fine ci mancano 4 parcheggi credo sì uno due tre quattro oh ma intanto possiamo andare a vedere se abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo questo paga 48 sì non è che devi suonare per tre secondi che aspetti eh sì abbiamo capito suona anche tu allora vediamo potesse chiudere il parcheggio allora praticamente questo ci costa mille possiamo aprire l'area 2 ma no security le fence interessanti le fence perché almeno possiamo iniziare a ricintare anche queste parking limiter non so cosa serva questo però per evitare probabilmente che la gente non passi in determinati punti comunque ne compro uno e vediamo ragazzi questo è un gioco davvero interessante da tenere d'occhio perché potrebbe aggiungere comunque nuove meccaniche nuove cose da fare è un gioco che è completamente in mano gli sviluppatori credo che sia già in grado ora di prendere per diverse ore in futuro sarà da vedere come lo porteranno avanti ma visto come è cominciato direi che promette assolutissimamente bene fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate e noi ci sentiamo in un prossimo video game play mentre io do una rammazzata a questo tizio vi saluto e vi mando il prossimo game play ciao 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 grazie a tutti